Ciao a tutti amici dello svapo, come erudire i propri figli allo svapo piuttosto che al tabacco? Perché vi faccio vedere? Perché questo gioco qua dovrebbe funzionare con l'acqua, ma io ho visto che funziona meglio con il pici spicci, no vabbè con lo strawberry, ma qua ho della base neutra, tanto tutto a zero di nicotina, quindi gli assistenti sociali possono stare ben lontani. Allora, andrebbe messo dell'acqua qua, io ci metto due gocce invece di pici spicci, così vieni chiamare, di pici spicci, eh di strawberry, sono di fragole. Ah che storia, come svapa il drago! E' sì, sto di fragola. Eh niente, fa proprio come lo svapo, cioè è una resistenza, scalda un pelino, che comunque sono bambini qua dentro con l'acqua fa vapore però con lo svapo ne fa ne fa un po di più questo è quello che ho potuto appurare io ma che roba è una ego questa va beh e con il draghetto vi saluto insomma chi ha bambini mi può capire con queste cose ci giocano più papà dei bambini ciao a tutti sti slap